Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Storie Italiane torna ad occuparsi del caso di Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita a gennaio 2022 nei boschi di Trieste. Si torna a parlare della presunta gravidanza interrotta della vittima, che secondo Sebastiano Vicentim potrebbe nascondere un figlio di Claudio Sterpin. Oggi vi era in collegamento con il talk del primo canale, proprio Sterpin, che ha ribadito. Lui aveva sempre sbandierato che con Liliana era solo un'amicizia, che mi sarei inventato tutto. Io e lei non ci siamo mai persi di vista, ci siamo sentiti per telefono, ci facevamo gli auguri eccetera. Io non ho segnato nessun calendario con la crocetta, quindi non posso avere certezza, ma avendo conosciuto la mia seconda moglie nel luglio del 90 e in quel periodo non avevo altre donne. Al 100% sicuro quel figlio non poteva che essere di Sebastiano. La dottoressa Marano, consulente della famiglia Resinovic, aggiunge. Sebastiano smentisce stesso, sembra che abbia un po' ritrattato quanto detto in quella intercettazione, ha parlato anche di stupro. Non interessa di chi sia quel bimbo, il valore e la forza di quella intercettazione sta nel fatto che quel figlio l'ha attribuito a Claudio Sterpin mentre ha sempre negato l'esistenza di quella relazione. E ancora, la persona con cui sta parlando Sebastiano Vicentin, spiega tra l'altro che lei era a conoscenza di una relazione di Liliana Resinovic con Sterpin negli anni 80 e 90.